La nostra ministra per il mezzogiorno, Barbara Lezzi. Grazie, Giulia. Oggi è la volta buona che dopo tanti palchi e tanti interventi mi metto a piangere, quindi fatemi parlare perché quasi quasi mi manca la parola, sarebbe incredibile per me, ma può succedere. Ognuno di voi, ognuno degli eletti e ogni italiano costruisce quel senso di responsabilità che ieri durante il cerimoniale, durante il giuramento io ho sentito tutto su di me, perché voi ci avete dato una fiducia incredibile dopo un percorso straordinario, adesso abbiamo quel potere per spostare gli ostacoli e raggiungere l'obiettivo come diceva Gianroberto Casaleggio. Ricordiamolo sempre perché è grazie a lui e a Beppe che noi siamo arrivati fino a qui. Ho chiesto ai funzionari del mio ministero che noi abbiamo voluto orgogliosamente chiamare del sud, anzi chiede la coesione territoriale. Sapete la ragione? Perché noi non vogliamo dividere il paese, noi non vogliamo un nord e un sud, noi vogliamo far correre di più il sud per raggiungere il nord ed aiutare il nord a diventare la locomotiva d'Europa tutta l'Italia. Non ci devono essere paesi nel nostro paese, paesi che in questi ultimi anni sono stati creati ad arte, hanno lasciato in miseria nella precarietà perché ci fosse un bacino elettorale. Basta, dobbiamo liberare le mani perché anche il meridione è produttivo, anche il meridione è operoso e non sta con il cappello in mano per il reddito di cittadinanza perché al Movimento 5 Stelle ha chiesto ben altro, ha chiesto equità, giustizia, ha chiesto altro. Ripartirò dai dossieri che sono stati lasciati in sospeso, quella famosa quota del 34% di investimenti ordinari che deve aspettare al sud perché in questo periodo è stato saccheggiato e li sono stati negati. Si può fare a costo zero. Ci sono le ZES, ma quello che io vi prometto e quello che io vi ammetto è che non posso conoscere tutto, ma voi in questi anni ci avete dato centinaia di eletti a tutti i livelli con il quale noi vorremmo collaborare. Io personalmente voglio sentire sindaci, consiglieri comunali, regionali, europarlamentari. Saremo capillari e faremo rialzare il sud, ripeto, per aiutare il nord e per essere finalmente tutta l'Italia uguale. Uno che collabora con l'altro. Non ci devono essere scontri e non ce ne saranno. Io oggi vi abbraccerei uno a uno perché siete venuti fino a qui. Noi vi abbiamo chiamato in un momento di difficoltà e il fatto che voi siate venuti già per questo è una cosa che veramente fa piangere. Io non mi aspettavo, io sono sempre fiduciosa nelle presenze, però tanta tanta gente veramente non me l'aspettavo. Io vi ringrazio e vi abbraccio uno ad uno. E stateci sempre vicino che ce la faremo, cambiamo tutto.